dottoressa donghi il suo caffè per iniziare bene la giornata senza colazione al bar come si può fare ebbene sì questa è la coccola della mia giornata di inizio giornata prima di buttarmi nel lavoro di redazione nella mia trasmissione in radio del resto fare colazione al bar o concedersi delle pause caffè sono tra le abitudini più amate dagli italiani ma ci siamo chiesti quanto queste abitudini tanto amate alle quali non vogliamo e non possiamo rinunciare vadano ad incidere sul nostro portafoglio ed ecco qui esplode il caro colazione al bar ormai un salasso e aumenta di più al sud sullo scontrino caffè cappucce cornetto segnano mediamente guardate un più 3 per cento il buongiorno si vede dal mattino tutti questi rincari non aiutano di certo a iniziare bene la giornata insomma leggiamo insieme dal caffè cappuccino dal cornetto alla spremuta d'arancia dal tramezzino all'acqua in bottiglia i prezzi nel 2024 sono aumentati soprattutto al centro italia parliamo di un più 4 per cento sapete a chi spetta il record dell'aumento alla spremuta d'arancia che sempre al centro ha avuto un rincaro dell'8 per cento come se prima costasse poco peraltro e poi ci sono delle cosiddette stranezze per esempio se ami bere il caffè il pomeriggio paghi di più ci sono tanti casi in cui il caffè ha prezzi diversi a seconda dell'orario in cui viene consumato o ancora avete presente l'acqua per accompagnare il caffè serve per assaporare meglio il gusto e l'aroma della miscela peccato che in alcuni casi venga fatto pagare ciascuno di noi alle sue preferenze ci piace il caffè schiumato macchiato macchiato freddo al vetro corto lungo con panna con ghiaccio e via dicendo dunque a meno che non si tratti di una ricetta particolare che prevede preparazioni elaborate non dovremmo trovare delle aggiunte di prezzo alla cassa ma non è detto perché a volte ci fanno pagare proprio di più quindi ascoltato tutto ciò al caffè rinuncerete o chi se ne importa se si basta rinunciare semplicemente magari ridurre un po' le cose rinuncerò al caffè secondo me l'alimento più sopravvalutato di tutti no assolutamente no non posso rinunciare al caffè perché è la mia coccola quotidiana rientra tra quegli alimenti che possono aumentare quanto vogliono ma li continueremo a consumare grazie a tutti Grazie.